Un messaggio di fortezza, di fortezza dell'animo, di fortezza del cuore e così con la loro energia spirituale hanno aiutato quanti erano attorno a loro ad essere generosi, ad essere buoni e la bontà e la carità che diventa diffusiva e promotrice di bene e questo è l'esempio che noi vogliamo ricevere soprattutto in un momento in cui rischiamo di lasciarci sopraffare dalla sofferenza, dalle difficoltà, queste due donne che sono state l'una e l'altra in modo diverso segnate dalla sofferenza ci hanno mostrato come anche questa situazione dura, difficile, terribile può diventare motivo per donare del bene, per donarsi agli altri.